Benvenuti anche oggi in questo nuovissimo video di questa bellissima quarantena che non è per niente bellissima visto che ho visto la situazione in cui siamo Beh, comunque, oggi un video un po' particolare, un po' diverso dal solito Siamo in macchina, facciamo un vlog un po' molto semplice, molto leggero in attesa del bel tempo, perché comunque adesso io sono praticamente le 4 di pomeriggio Sì, e c'è buio, c'è un tempo che fa veramente schifo Quindi adesso aspettiamo che faccia bel tempo e poi iniziamo a fare tutti i rapporti del caso In cui abbiamo pulito anche la mini Allora, adesso siamo nella mini, perché, non lo so, perché c'è più luce Semplicemente perché qua ho direttamente tutta la luce che viene da fuori Mentre la BMW è un po' più coperta Ma vedete, sono sempre a casa, non sono uscito, non sono a casa mia, non so fare nient'altro E niente, allora, innanzitutto non so a minimamente che video siamo oggi Per suo conto dei vlog, dovremmo essere al vlog numero 8, credo E niente, oggi parleremo di tutte le macchine che ho guidato Vi ve le racconto un pochettino brevemente Partiamo subito, prendo il mio mitico iPad dove mi sono scritto tutte le macchine Perché non sono tante ma mi dimentico E niente, non ho nessuna pretesa in particolare Non sono macchine chissà quanto potenti Però insomma, alcune sono macchine divertenti Alcune sono macchine che hanno preso tempo Alcune sono macchine che non sono diventate parte integrante della mia storia di come ho imparato a guidare Allora, iniziamo Andiamo in ordine La prima macchina che ho guidato Circa ormai due anni fa Ormai due anni fa buoni È stata la BMW La 525D Della E61 del 2008 È stata la prima macchina che ho guidato Per pura casualità Poiché Siccome un giorno siamo tornati da casa con mio padre Noi abitiamo in una zona un po' isolata Ovvero, passano pochissime macchine Una strada praticamente chiusa Non c'è nessuno E il mio padre un giorno mi ha fatto Vuoi provare a guidarla? E io, ok, va bene Mi è andata bene come prima macchina guidato Perché comunque la BMW è automatica Quindi, insomma, facile iniziare con un automatico Poi, la strada Non è stato difficile imparare a guidare, per carità Però, iniziare con un automatico, insomma Non è stato proprio il massimo delle cose Per capire come prendere le distanze Come accelerare I tempi Diciamo che, grosso modo, è stato un buon inizio Come seconda macchina Quella che ho guidato È stata la Mitsubishi Outlander del 2007 La macchina di mia madre Circa qualche settimana dopo Che, appunto, era manuale Aveva un 2.140 cavalli diesel, sempre Perché i miei genitori fanno molti chilometri E ho imparato a guidare con quella Praticamente il manuale Ho iniziato a guidare con quella lì Sempre qui vicino a casa mia Dove non c'è nessuno È stato divertente Perché le prime volte Io, all'inizio, ero uno di quelli che diceva Eh, ma tanto non guiderò mai una macchina manuale Perché le automatiche sono più belle E queste cose qua Poi ho imparato a guidare l'automatico Qualche mese dopo Mi sono completamente ricreduto E sono diventato un fan sfregatato del manuale Perché è troppo divertente A prendere la prima A mettere la marcia A seconda A terza A quarta Cioè è diventata una cosa bellissima Quindi ho imparato a guidare appunto Il manuale con quella macchina Che poi ha avuto una serie di problemi E non vi sto a dire Comunque Quella macchina è stata Una macchina un po' particolare Perché Aveva tutto sommato Un bel motore Quel 2000 Comunque Per il peso della macchina Non era granché Però era molto divertente Perché Avendo la trazione integrale Inseribile E disinseribile Mi divertivo Cioè con quella macchina Ho imparato diciamo un po' A fare tutto A fare le doppiette A partire magari con la seconda Quando si è in discesa A far partire la macchina Quando si ferma Perché quella macchina Ha avuto una serie di problemi Tra cui Uno In cui partivo una volta sì E dieci volte no Quindi Mano a mano Ho imparato tutto quanto E tra l'altro Quella è stata anche una delle macchine Che mi ha fatto un po' scimprare Perché Ha avuto un botto di problemi Come vi ho già detto Ha bruciato la guarnizione Della testata Ha iniziato a bruciare A mangiare A mangiare olio Un pochettino di olio Poi Ha iniziato ad andare Praticamente all'acqua Anziché a benzina Però Quella è un'altra storia Ve la spiegherò in un altro video Perché anche su che la macchina C'è parecchio da dire Ma comunque è stata Molto divertente La seconda macchina Che ho guidato Quando mi subisce In sado dare problemi È stata una macchina Che probabilmente È una delle macchine Più divertenti Che abbiamo mai guidato Probabilmente Che era appunto Il Toyota Land Cruiser Circa del 1990 L'anno esattamente Non lo so Solo che aveva un Adesso vi faccio vedere le foto Aveva un 2005 4 cilindri In linea Longitudinale Turbo Turbo Per quei tempi Penso che I turbo Erano l'innovazione Praticamente Che non aveva molti cavalli Non aveva molti cavalli Aveva 75 cavalli Ma per il peso E per come era fatta Era veramente Cioè divertentissima Cioè era Forse la macchina Più divertente Che ho mai guidato La prima volta che l'ho guidata Non mi si è spenta Mai Però Cioè per niente Aveva una frissione Che staccava In un punto preciso Cioè se tu imparavi Quel punto Con quella macchina Potevi farci tutto Il cambio Era una cosa Allucinogena Perché aveva rapporti A parte Rapporti molto lunghi Ma ci può stare Perché aveva anche le ridotte Però tipo Lo spazio di inserimento Della marcia Proprio nel cambio Era enorme Cioè io per mettere la prima Dovevo sbracciarmi in avanti Per metterla Poi anche perché Aveva il cambio I cambi da camion Come dico io Ovvero che ha il piantone In basso E poi La leva del cambio Altissima Tipo la leva del cambio Alta un 50 cm 50-60 cm Quindi Era molto divertente Anche quello Anche quello era integrale Vabbè ovviamente Però vi giuro La turbina Entrava in un punto Allora Quella macchina Ho imparato a conoscere Perché l'abbiamo tenuta Qualche mese Però Beveva come non so cosa Cioè Forse faceva neanche 8 km con un litro E ce ne vuole Però Era una macchina Pericolosissima Perché non aveva BS Non aveva TSC Non aveva contro Stabilità Fortunatamente aveva il servo Terzo Ma vabbè Ma aveva una convergenza Che non c'era Cioè per andare ai diritti Devi tenere il volante Storto E appena superavi 100 all'ora Dovevi iniziare a pregare Che non arrivasse Una falata di vento Era Era molto divertente Come macchina Adesso Non ho Non ho grandi Non ho grandi video Con quella macchina Sono qualche foto Qualche Qualche video Visto all'interno Ma non so se ne troverò qualcuno Però Molto divertente Molto divertente Praticamente Stavo dicendo Aveva Era molto squadrata Come macchina Ovvero Staccava una frizione In un punto ben preciso E il turbo Iniziava in un punto ben preciso Il punto è che Essendo i vecchi turbo Avevano un turbo lag Cioè Era una cosa Esagerata Il turbo iniziava A 2500 giri E moriva A 3500 Cioè Zero Però Una volta che entrava il turbo Ti divertivi Poi Essendo le macchine vecchie Quelle tutte analogiche Non aveva geometria variabile Era una macchina Nuda e cruda Cioè il turbo Si sentiva Era Era Un bel suono Cioè era Era un bel suono di turbo Quando sfiatava Era molto Molto divertente Poi Vi dico che è molto divertente Da guidare Anche perché Essendo molto alta E avendo dei gommoni enormi Che non erano neanche mai sempre gonfi Sospensioni Che vabbè Ormai Lasciamo stare Quando facevi le curve strette Cioè la macchina Anzi che sta in piedi Si girava completamente Quindi io da tutti Cagami in mano Cioè Mamma mia Questa saccappotta Non si accappotava mai Perché comunque Vabbè Però Molto divertente Poi Ho imparato a fare I primi Diciamo Le prime partenze Un po' più veloci Diciamo Tra virgolette Perché Era una macchina Aveva un cambio robusto Un motore enorme Perché un 2005 Praticamente tutto in ghisa Qui faccio vedere le foto Era una figata E niente Io ho tenuto un po' di tempo Poi Faccio l'anima sua Quella macchina Ha avuto un problema Dopo che l'abbiamo ridata Perché era una macchina Dei Dei zii di mia madre Gli si è bruciata Alla guarnizione della testata Quindi Ciao Rip Ok Allora Stavo riguardando Le clip del video Che ho appena registrato E mi sono reso conto Che È È troppo lungo Quindi Diciamo che lo dividiamo In due parti Oggi vi ho raccontato Le prime tre macchine Che ho guidato Ovvero il BMW Il Mitsubishi E il Toyota E domani Partiamo con un altro vlog Dove vi racconto Invece Le altre Macchine Che appunto Ho guidato Detto questo Ci vediamo domani Con appunto La seconda parte Di questo video Dove vi racconterò Le altre macchine Che vi ho guidato E niente Lasciate un like Un commento Se avete qualcosa Da chiedermi Che voglia portare Sul canale E ci vediamo Domani Con un prossimo video Ciao ciao